Andiamo! Di qua! Muori! Ehi! 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 Continuate pure a ostacolar, ci viene ventire. Sì, non è vero. Grazie a tutti. 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 Un vero amico vi aiuterebbe, quindi salve. Per fortuna possiedo abilità rare e ricercate. Oh, volevi dire qualcosa? No? Ecco qua un'armatura minuta per te. Oh, cos'altro ti serve? Oh, no. 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 Sì Sì Andiamo voi due questo silenzio è snervante Ci stiamo solo concentrando Sì 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 È ora di arrenderti Sì 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 Ahahahah! Ah! 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 Chi ha attivato il ponte? Ehi! Io ho fatto una domanda! Troppo tardi! È bloccato! Quando il ponte si aprirà, tutto il peso di Asgard si abbatterà su di voi! È finita! Davvero? Tanto peggio! Valdur! Tu devi ascoltarmi! Lascia che ti aiuti! Molla subito la presa o lo ucciderò! Sai che lo farò! Che hai fatto? Ragazzo! Ragazzo? Sono qui! Stai fermo! Ora tu ascolta me senza aprire bocca! Io sono tuo padre! E tu, ragazzo, non sei più tu! Perdi subito le staffe! Sei avventato, insubordinato e fuori controllo! Così proprio non ci siamo! Tu onorerai tua madre e abbandonerai la strada che hai scelto! Però... Non è troppo tardi! Questa discussione non finisce qui! Siamo qui per causa tua, ragazzo! Non te lo dimenticare! Dunque... Uh... Fa freddo! Che sia El! Non solo, siamo finiti nella parte peggiore di El Una nave Andiamo, ci risparmierà solo metà strada verso il Tempio di Tyr Ma almeno ci allontaneremo da qui Per migliaia di anni il Guardiano del Ponte ha tenuto lontani i vivi da questo posto Ma ora che gli hai strappato il cuore, eccoci qui Buffo come tutto si capovolge Ragazzo Non ero io Non ero io Non ero io Non ero io Ero io Ma noi siamo Dele Possiamo fare quello che vogliamo Ragazzo, allontanati È quello che ho detto a tua mamma poco prima di scoparmela Ma... Quello non ero io Io non l'avrei mai fatto Non devi pensarci Non qui Sì Dobbiamo proseguire Testa, cos'era? Qui non ci sono solo i vecchi e i malati Io rimedio io Io rimedierò Tu esegui gli ordini Ma forse non sono così Devi esserlo Ora fammi pensare Non per metterti fretta, ma più veloce? Devo pensare Devo pensare Non per metterti fretta, ma più veloce? Non per metterti fretta, ma più veloce? Non per metterti fretta, ma più veloce? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.